benvenuti da Mac21 in questo corso di aggiornamento parleremo della possibilità di convertire le scene all'interno di 3ds max 2017 e facciamo la conversione che cosa succede con questo tipo di conversione andiamo a vedere trovo a disposizione che possiamo fare il nostro render preview e andare a cambiare quelle che sono le queste tipologie di impostazioni queste impostazioni le tiene quindi le ombre meditoni eccetera questi tipi di materiali che sono presenti all'interno hanno dei colori un po' particolare perché hanno una una patina satinata ed se se ho la necessità di tornare indietro quindi backup open